Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, quando dei profumi devono essere una bomba, lo devono essere sotto tutti gli aspetti e ci sono due profumi che sono due bombe che io vi devo far vedere. Uno lo conoscete già, ve ne ho già parlato, l'ho già portato su questo canale, quindi ve lo riporto perché ha una connessione con l'altro profumo che invece non vi ho mai mostrato perché è nuovo e quindi partiamo subito con il farvi vedere di cosa sto parlando. I profumi in questione, quello poi su cui mi soffermerò di più perché appunto dell'altro, ripeto, ne ho già parlato, però è anche vero che non tutti hanno visto il video in cui parlavo di quello che vi ho già presentato, è Spice Bomb, questo capolavoro di Victor & Rolf da uomo. Allora, il Spice Bomb e Flower Bomb sono, a partire dalla boccetta, due dei profumi più bomba che io abbia mai posseduto e sentito. Questo del mio compagno e questo è mio. Allora, questo del mio compagno gliel'ho regalato per il suo compleanno, lui è un amante dei profumi molto dolci, dei profumi piaccioni, dei profumi da bad boy, tra virgolette, e quindi sapevo che con questo sarei cascata sul sicuro, però non credevo che ci piacesse così tanto davvero perché comunque ho fatto un blind buy, ho trovato un'offertona su Notino, era da tempo che mi ronzava l'idea di prendere questo profumo perché comunque le recensioni sono sempre state tante e sempre ottimissime. Leggendo la piramide olfattiva e conoscendo il mio compagno sapevo che non avrei sbagliato, ma qua c'ho più che azzeccato perché effettivamente il profumo per quanto mi riguarda va oltre le mie aspettative perché lo immaginavo diverso, lo immaginavo più simile a qualcos'altro. Questo a me piace da morire. È un profumo del 2015, guardate, è proprio, non è il periodo migliore per parlare di queste cose, comunque una bomba a mano, però prendiamola insomma per quello che è, quindi sta a voler significare che è una bomba, è un'esplosione di profumo e appunto ha questa piramide. Vaniglia troviamo all'interno, tabacco, cannella, cumino, il whisky bourbon e lo zafferano, quindi tutti elementi che piacciono da morire al mio compagno e piacciono tantissimo anche a me. Questo profumo, vabbè, che ve lo dico a fa, a parte che quando se l'è spruzzato poi lui c'ha una pelle che trasforma i profumi che se già sono buoni diventano eccelsi. Vabbè, allora innanzitutto io inizio dicendo che sì, mascolino per come intendiamo noi profumi, però non vi nego che lo avessi conosciuto prima di regalarlo a lui me lo sarei comprata per me, perché è un profumo che io trovo estremamente sexy anche su una donna, perché è molto dolce e non ha quelle vibes tipiche maschili che siamo soliti immaginare all'interno dei profumi. Vabbè, allora questo profumo ha tantissima cannella, quindi deve piacere tanto la cannella. C'è questa vaniglia molto molto dolce che è presente dall'inizio alla fine e lo zafferano insieme al cumino creano questa bomba davvero, lascia una scia che voi non potete immaginare, ma proprio continuamente dura tantissimo e appunto è stradolce, non è nauseante, però è un dolce importante, è un dolce da serata aperitivo fuori con un bel giubbettino in pelle, il vostro uomo bello ingellato con i capelli belli fissi, quelle giornate, quelle serate che vi volete concedere di coppia dove magari vi siete fatte una bella cena e poi vi concedete l'ultimo bicchiere, l'ultimo cocktail in un in un localino ed effettivamente l'immagine che ho è questa perché il giorno che gliel'ho regalata abbiamo fatto un aperitivo, eravamo ancora in vacanza appunto e lui aveva questo profumo, c'era era sera, c'era questa temperatura mite perché dove eravamo al sud Italia sicuramente non si muore come qui, quindi il clima era anche favorevole e arrivavano queste zaffate di profumo che erano davvero qualcosa, cioè a me faceva brillare gli occhi ancora di più per il mio uomo il fatto di sentirlo con questo profumo, quindi pensiamo anche a quello che i profumi innescano, la chimica che si innesca quando c'è un profumo che ci piace, che ci attira, quindi è proprio un profumo piaccione, è sicuramente un profumo che io non avevo comunque sentito fino adesso e diciamo che nella zona in cui vivo non ho ancora sentito questi uomini con questi profumi spaventosi da far miggiare la testa, quindi piuttosto sulle donne riesco a sentire le solite fragranze che ormai sapete che non vanno a braccetto con me perché ormai sono sempre quelli profumi che sento, ogni persona che mi passa di sesso femminile vicino sono sempre quei cinque profumi che ha, quindi sono pur stufa di sentirle, mentre gli uomini non ho ancora sentito effettivamente un uomo che abbia un profumo che mi porta a dire cavolo che profumo hai, quindi non so se è un fattore di zona culturale sicuramente perché io ricordo il sud Italia quando bazzicavo da ragazzina avevo certi amici maschi e all'epoca andava di moda montale quant'altro che uscirono proprio profumati e si distinguevano proprio con questo profumo, qui in questa zona non c'è tanto questa usanza secondo me per i maschi, si accontentano del dopo barba secondo me o del classico profumo che può essere un acqua di joe piuttosto che un ter d'ermes per non come dire essere mai diversi no perché c'è sempre questo discorso di omologazione secondo me. Piccola parentesi che buono poi quando inizia ad assestarsi sulla pelle rimane morbido, rimane come un velluto, come una pelle di camoscio su cui è caduta questa goccia di whisky, cioè questo bicchiere di whisky, questa pelle di camoscio che fa da sfondo, vedo proprio questa situazione, vedo questa bacca di vaniglia nera intensa col fiore profumato e questo zafferano che da qualche parte si intrufola e rende questo un capolavoro, persistenza, siage, tutto quello che volete durata veramente spaziali, io lo adoro e questo è il famoso Spice Bomb Victor & Rolf che posso assicurarvi anche per le donne più tenaci è qualcosa di eccezionale, secondo me se volete essere un po' civettuale questo cambia un pochino le carte in tavola e non come dire andrete a come addescare qualcun altro con un profumo già sentito sul pubblico femminile e quindi tanto buono lui quanto io ho amato, sapete quanto ho amato, quanto continuo a amare e tengo sempre questo pochino di profumo perché non ho il coraggio di finirlo, la versione, una delle versioni femminili perché poi ci sono diversi nectar, diversi spice bomb, quindi flower bomb e spice bomb, questo è del 2018 e all'interno abbiamo la polvere da sparo, il ribes nero, il bergamotto, il fior d'arancio, lo smanto, il gelsomino, sambac, vaniglia, fava tonka, benzoino e paciuli e qui senza che lo spruzzo perché ormai la conosco a memoria, qui c'è quella cosa che tutti mi fermavano, cosa hai, cosa non hai, è un profumo eccezionale, è dolce però c'è quella dolcezza che non sconfina nel volgare o nel fastidioso perché poi non so voi ma io nel tempo sento alcuni profumi che sono dolci e poi c'è quella cosa che è quel piccolo grigianico in più che me lo rendo un po' volgarotto, questo non sconfina in quello però un profumo importantissimo, ci sono questi, c'è questo ribes nero, quindi c'è questo frutto di bosco, sembra quasi una specie di yogurt al ribes nero, quindi c'è quella dolcezza smorzata da questa parte che è un po' più acidula, c'è il fiore d'arancio indubbiamente poi tanta fava tonca e benzoino di base che lo fanno proprio sentire, gli danno proprio lo sorreggono, c'è questa nota di polvere da sparo che io ho sempre un po' stentato a sentire, forse in apertura c'è questa vibrazione un attimino, una bomba che potremmo interpretare come polvere da sparo non lo so, però è un profumo eccezionale, stra sexy, stra sensuale, vi ripeto io questo profumo ogni volta che lo mettevo il mio compagno andava in acqua di giuggiole e la gente mi chiedeva continuamente che cosa avessi, tant'è che poi ero proprio infastidita perché a un certo punto ho iniziato a dire un'altra cosa perché ho detto no, ormai mi avete stufato e sapete qual è la mia tattica, quando poi mi piace tanto un profumo non mi va neanche di troppo nel range in cui vivo di pubblicizzarlo, altrimenti poi finisce che magari quel profumo che nessuno conosceva prima iniziamo a averlo in dieci nello stesso paese e quindi poi va a finire che non mi piace più. Quindi questo è quanto, questa è la versione femminile di un profumo che se vi piace il ribes nero, la vaniglia, la fava tonka, il benzoino e volete proprio essere sensuali, sexy, dovete assolutamente provare. Io lo adoro e per questo come vi ho detto non lo riesco a finire. Prenderò coraggio per ricomprarlo, questo non ha un costo bassissimo, mentre questo è un'offerta e l'ho pagato davvero giustissimo, 50 ml non so se gli ho lasciato 70 euro, 50 euro, una roba del genere e questo qui costa sui 98, 87, il 50 ml mi pare, quel 30 non vi fate niente, quindi aspetto sempre di trovare un'offerta ma vedo che non è un profumo che va scontato e se va scontato non scende di tanto, quindi quando avrò finito un po' di roba probabilmente ci rifarò il pensiero. Quindi due profumi bomba che se vi piacciono le caratteristiche che vi ho appena detto dovete provare. Ciao!